Continuiamo a sentirci, e niente, vogliamo vedere fuori come va. Esco la traduzione, bravi. Lo vedi le persone serie che hanno realmente voglia di innamorarsi, come arrivano? Vedi qualcosa? Sì, no, è così, è come ha detto lui. Non è che stava così, no? Più o meno così, e parlamo. Sì, no, è andata così, poi ci sono state tante casualità, nel senso che noi ci siamo incontrati anche giù nel parcheggio dopo la puntata in cui lui è entrato, quindi avevamo intuito che eravamo di Roma, quello per me era già un qualcosa di importante, no? Perché poi la vicinanza conta. E per cui... Dove sei bella? Per cui è andata così. Che meraviglia!